Buona giornata amici di Fano TV, oggi è lunedì 14 novembre 2022, bentrovati, bentrovati alla rassegna stampa, vedremo le notizie del giorno, ce ne sono tantissime per quanto riguarda quello che è accaduto ieri, un giorno denso di fatti di cronaca, purtroppo non certo edificanti e daremo notizie così come le espongono i giornali questa mattina, è stata una giornata veramente intensa, difficile per tutte le forze dell'ordine e anche per i cittadini stessi che purtroppo hanno dovuto assistere a certe intemperanze, vedremo quello che è accaduto ma prima vediamo subito l'almanacco del giorno e vediamo ecco qui la grafica, oggi si festeggia San Lorenzo O'Toole, San Lorenzo O'Toole era arcivescovo di Dublino, visse nel XII secolo un periodo che fu tormentato da guerre, carestie, cercando di alleviare quelle che erano le difficoltà del suo popolo, visse una vita edificante, si impegnò, mise le mani in pasta come si dice per cercare di dirimere liti, evitare guerre, cercare di sopperire alle carestie, fu un uomo che fu santificato appunto per il suo impegno per il prossimo. E vediamo anche le previsioni del tempo, questa mattina una leggera pioggia è caduta ma sta cadendo anche su Fano e vediamo come su tutta la regione vengono estese nubi irregolari e ci saranno anche piovaschi al mattino sui settori interni e costieri e delle basse marche, dovrebbe essere asciutto altrove quindi la situazione almeno per quanto riguarda le marche nord dovrebbe migliorare. Le massime, le temperature massime si aggiungeranno tra i 9 e i 15 gradi, i venti ispireranno sulle coste da una direzione di ovest nord-ovest mentre nell'interno con una tensione debole da nord, le temperature sono in calo, il mare è molto mosso. A questo punto vediamo un'immagine appunto di questa situazione perturbata del tempo, ecco siamo nell'area del Pincio, nell'area di Porta Maggiore a Fano, la telecamera si sta spostando lentamente dall'arco di Augusto che non si vede e lo abbiamo qua nella destra, verso Porta Maggiore dove scorre la statale Adriatica. Ancora c'è poco traffico ma tra poco, in modo particolare perché è una giornata di pioggia, si riempierà di veicoli, i bambini, i ragazzi vanno a scuola, la gente va al lavoro e quindi ci sarà abbastanza traffico. Bene, dopo queste immagini invece riportiamo la telecamera all'interno dei nostri studi per vedere le notizie che pubblicano i giornali. Partiamo subito dal Corriere Adriatico e vediamo la prima notizia di cronaca. Spuntano manganelli e addirittura anche una spada, una spaventura rissa e scoppiata sabato sera in Via Nolfi sud nei pressi del Caffè dello Sport in Via de Borgoggelli, l'incrocio tra Via Borgoggelli e Via Nolfi. Si scontrano due bande di extracomunitari, sembra che siano albanesi ed egiziani. Un video mostra colpi sferrati e almeno sei giovani coinvolti. Colpi sferrati con bastoni e forse anche una spada, una katana. Questa spada di tipo giapponese che luccica nel momento in cui viene brandita e alzata dal ragazzo che tenta di colpire il suo avversario. Diamo un'occhiata l'incipit di questo articolo. I manganelli è una spada, probabilmente una katana usata per sfidarsi. E oggetti in particolare vasi lanciati per colpire e fare male, poi pugni, calci. E questo è un po' il resoconto sintetico di una spaventosa rissa che si è verificata sabato sera in centro storico. Uno scontro violento tra due bande di giovani che si sono affrontate appunto in questo luogo che non è nuovo a episodi del genere. Un luogo della maxitruffa. È uno dei più frequentati in centro storico nelle serate del weekend tra giovani. Insomma ci sono giovani che spesso eccedono nelle libagioni, che poi fanno delle reazioni in consulta, vomitano per strada, fanno di perigio nei portoni. Magari se qualcuno li riguardisce reagiscono in maniera violenta. Insomma è una situazione che deve essere soffocata. Seri, il sindaco, commenta. È un fatto gravissimo. Oggi convocherò un incontro. Cercherò di incontrare il questore per cercare di correre ai ripari. Ho deciso di convocare un tavolo tecnico con il questore, ha detto Massimo Seri, perché si possono prendere dei provvedimenti risolutivi. Ho notato che quest'ultimo ha fatto un bel intervento sul parco Mirafiore, quest'ultimo il questore. Ora gli chiederò di concentrarsi più su Fano. Dopo l'ennesimo episodio che si è verificato su Via Nolfi, i residenti sono esasperati e a ragione chiedono di porre fine agli episodi di violenza che sono costretti ad assistere ogni giorno. Qui non si tratta più di intemperanze giovanili, ma di veri e propri casi di delinquenza. E questa appunto è la reazione del sindaco. Nel corso dell'incontro con il questore, ha aggiunto, vedremo di pianificare la reazione delle forze preposte affinché episodi simili più non si ripetono. Quindi una pianificazione costante, quotidiana, in modo che queste cose si cerca almeno di non farle più ripetere. E vediamo anche come il resto del Carlino ha trattato questo episodio. Magari lo vediamo in maniera un po' più succinta. e vediamo come in questo articolo si parli di una rissa e sangue in Via Nolfi tra i giovani. Rissa l'altra notte in Via Nolfi tra albanesi ed egiziani con lancio di vasi dei fiori, feriti sangue, qualcuno ha visto una spada, urla e fuggi fuggi. Tutto questo nei pressi di un bar. Sono intervenuti i carabinieri per cercare di mettere fine all'ennesimo episodio di vandalismo e violenza. Non è chiaro se qualcuno poi si è portato in caserma. A questo riguardo i carabinieri non hanno fornito molte notizie, insomma si sono mantenuti nel riservo. E devo dire che si mantengono nel riservo anche per un altro fatto. Un altro fatto di cui parlano diffusamente i giornali questa mattina. Litiga con il compagno poi scompare. Ricerche a Sassonia per una giovane. Una giovane è scomparsa nella mattina di ieri. Dalle nove non si è avuta più notizia di lei. Subito è iniziata una vasta azione di ricerca coadiuvata da diverse forze dell'ordine. C'era la protezione civile innanzitutto che con i suoi volontari sono addestrati proprio alla ricerca delle persone scomparse, poi anche i carabinieri, il commissariato, i vigili del fuoco. Insomma tutti hanno collaborato per cercare questa giovane di cui non si sapeva più nulla. Si tratta di una giovane ucraina tra i 23 anni, probabilmente anche una bambina piccola. Si dice che la fuga sia legata ad un dissidio familiare. Ebbene questo problema del dissidio familiare è quello che gli inquirenti cercano di indagare, ma soprattutto si cerca di trovare questa giovane. Si è setacciata in modo particolare la zona dell'ex pista dei gocarte, la zona del bersaglio. È stato trovato il suo cellulare nei pressi del cavalca ferrovia di Viale Piceno, ma fino a ieri sera a notte inoltrata non si è trovato nulla. Poi probabilmente qualcosa è avvenuto durante la notte e si parla che si pensi addirittura al peggio dopo un litigio. nessuna traccia né del compagno o del marito né della giovane ucraina. E quindi insomma le notizie non sono certo buone. Ancora non c'è una proclamazione ufficiale di quanto è avvenuto, ma insomma il problema esiste. C'è qualcosa insomma di molto molto brutto e vedremo che cosa accadrà più tardi. Vediamo le altre notizie. Siamo sempre sul Corriere Adriatico, si parla ancora del terremoto, case inagibili, altre famiglie fatte sgomberare. È stata dichiarata inagibile una casa colonica camminata di Fano, lo è in parte un appartamento in via Garibaldi. hanno trovato una sistemazione alternativa. Gli abitanti di questi appartamenti lo hanno trovato in autonomia. Le persone che hanno dovuto lasciare le due abitazioni in conseguenza del terremoto, come già hanno fatto anche altri fanesi, hanno trovato una sistemazione propria. non è che hanno così... sono andati con case messe a disposizione del Comune. Comunque il Comune stesso aveva messo a disposizione fin dall'inizio la palestra di Cucurano perché avesse avuto bisogno di trascorvervi la notte. Era una fase prevista questa dal piano di protezione civile che il Comune ha adottato e che in questi casi viene... è un po' come la Bibbia perché si segue passo per passo, lettera per lettera quello che prevede il piano. E vediamo le altre notizie. Siamo a Marotta, VL e Cri. Oggi in campo, sport e sociale per Andrea. Si è ricordato Andrea Sciarini che è stato stroncato da un malore nel mese di aprile e sarà ricordato oggi. Quando lo sport abbraccia il sociale per ricordare un giovane speciale escono fuori giornate uniche. Veramente in questi casi si vede la solidarietà, si vede il lato positivo di tante tante persone. E poi vediamo che c'è un rimbrotto da parte del Comitato di Salute Pubblica di Mondolfo per quanto riguarda il Sindaco e la minoranza. Guardia Medica nessun atto per prevenire la chiusura. Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che la Guardia Medica, dopo un periodo abbastanza breve di attività, è stata revocata a Mondolfo e appunto il Comitato imputa al Sindaco, all'amministrazione comunale, di non aver fatto abbastanza per trattenerla. Il 7 marzo di quest'anno l'assessore regionale alla Sanità, Saltamartini, firmò un accordo con i sindacati medici. L'accordo prevedeva anche l'istituzione di una Guardia Medica di secondo livello, Spoc, a Mondolfo. Però insomma questo non è stato ottenuto e quindi insorge il Comitato. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Superbollette addirittura per le case alluvionali. Le case che sono state abbandonate perché inagibili da parte dei proprietari e vengono colpite dalle bollette per quanto riguarda il consumo di energia. Non ci abituiamo e dobbiamo pagare. Lo dice l'avvocato Sardella, che è tra i beffati, nel conto addirittura si fa pagare il canone TV, perché nella bolletta elettrica c'è anche inserito il canone TV. Pensate voi se un alluvionato costretto ad abbandonare la propria abitazione guarda la televisione nella casa di queste. Insomma siamo veramente all'assurdo. Promuoverò un'azione legale, ha dichiarato l'avvocato Simeone Sardella. Lo vediamo qui fotografato in questo riquadro con la bolletta di 466 euro che gli ha notificato appunto il fornitore. Ed ora apriamo il giornale per quanto riguarda la pagina di Pesalo, dove le aperture sono dedicate, sono dedicate, adesso vediamo un po' se riesco, eccola qua, sono dedicate ancora al terremoto. Al terremoto perché anche a Pesalo c'è stato uno sgombero di inquilini, di abitazioni nella zona dell'ex ciminiera Molaroli che è stata dichiarata in questo momento pericolante. Infatti dalle scosse di terremoto rischia il crollo, la via è stata chiusa e alcune famiglie sono state fatte evacuare. Si tratta circa di 30 persone. Lo sgombero è stato deciso nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto si è recato anche il sindaco Matteo Ricci. Evacuate nel pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dalla polizia locale, diverse abitazioni di via Luca della Robbia per i danni del sisma del 9 novembre scorso. Il rischio, paventato dopo le prime verifiche che sono state effettuate dai vigili, è quello di un pericolo causato dalla instabilità della lunga ciminiera che una volta così era inserita nel laboratorio della nota fabbrica di ceramiche Molaroli. Una ditta questa molto famosa per quanto riguarda le opere d'arte che ha prodotto. Ebbene queste persone stanno trovando una sistemazione temporanea. 15 persone hanno trovato alloggio temporaneo all'hotel Cesar di Viale Trieste. Imponente comunque la macchina che si è messa in moto. E qua invece vediamo come si cerca di reagire da parte dei padri Capuccini alla inagibilità della Chiesa che ha subito danni. La Chiesa di San Francesco a Pesaro che ha subito danni per quanto riguarda le guglie che corredono l'aspetto estetico della Chiesa. Nei prossimi giorni questa verrà visitata dall'arcivescovo Salvucci e ora la messa di ieri si è svolta in palestra. La messa in palestra è così che la parrocchia di San Francesco dell'Ordine dei Frati Minori Capuccini si è trovata ieri mattina ad affrontare l'emergenza sismica. Ebbene chi è che celebra questa messa? E' Padre Marzio. Padre Marzio è una figura che i fanesi conoscono bene perché ha celebrato per lungo tempo nella Chiesa di San Paterniano a Fano. Sono ore frenetiche non solo per riorganizzare le celebrazioni ma anche per tutta l'attività parrocchiale dei capuccini come gli spazi della palestra dove quasi quotidianamente si faceva ginnastica o sport per il quartiere. Quindi un aspetto anche non solo religioso ma sociale per tutta la città. Giriamo la pagina e vediamo come purtroppo in queste due pagine ci sono dei lutti. Ebbene un lutto è quello di una quattordicenne, una studentessa. Si tratta di Milena Lentini che è deceduta in seguito ad un incidente stradale. I familiari di Milena donati gli organi. Altre persone si salveranno grazie a lei. Un spontaneo ma veramente di grande valore l'atto che hanno fatto i genitori che nel momento di una grande tragedia trovano anche la forza di fare questo atto di altruismo. Altre persone si salveranno grazie a lei. Sciocca Monbaroccio per la morte della studentessa di 14 anni in coma dopo l'incidente di martedì. Purtroppo non gliel'ha fatta. Era ricoverata nell'ospedale di Torrette di Ancona ma questa ragazza purtroppo è deceduta. Pensate che quattro anni fa era morta la mamma per leucemia. Marianna se n'è andata sabato alle 20 in un letto d'ospedale di Torrette di Ancona. Una nuova tragedia pochi giorni dopo allo schianto di martedì mattina nell'incrocio maledetto di Pontevalle dove si è verificato l'incidente. E anche il sindaco Petrucci interviene per ricordare questa ragazza, questa ragazza solare, gentile, sempre sorridente. Il sindaco il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. La data dell'Esee che però è ancora da definire sarà o domani o dopo domani. Sport e turismo. L'arena è un volano, quattro giorni dietro il successo. La Vitifrigo fa il pieno. Per quanto riguarda Little Basket, il sindaco Ricci e il presidente Aspett Pieri rilanciano per l'importanza di questa grande struttura che rende Pesaro meta di grandi avvenimenti, di grandi spettacoli. E intanto è stato riconosciuto, è stato dato ad Acqualagna in occasione della fiera del tartufo a Selci il premio Mattei. Il tributo al patron dell'ABS, il clou della giornata finale della fiera del tartufo di Acqualagna. Selci, così Giancarlo Selci ha ricevuto questo premio commosso. Per me è importante, ha dichiarato. E vediamo anche la pagina di Urbino. Sfratto all'Istituto Capellini. Un'ossessione per il sindaco. La replica di Torrico Inasoni alla defida del comune. Tutelati alla soprintendenza. Il comune d'Urbino dà lo sfratto definitivo all'Istituto Capellini. È stato un atto forzoso, diciamo così. In questo modo si riaccendono la tensione tra l'amministrazione comunale e l'Istituto per la storia del movimento di liberazione, appunto Egisto Capellini, dopo i roventi rapporti del 2019. In questo caso il braccio di ferro lo sta vincendo l'amministrazione comunale. Ora apriamo il resto del Carlino che abbiamo già aperto per farvi vedere le notizie di cronaca. Ve le ripeto, sparita a 25 anni dopo un litigio con l'ex, era tornata da lui per fare le valigie, afferma il resto del Carlino, l'allarme lanciato dal nuovo fidanzato della giovane. Setacciato Canale Albani, Arzilla, si teme il peggio. Come ho detto, probabilmente c'è qualcosa di brutto in questa storia. E poi ancora rissa e sangue in Vianolfi tra i giovani e poi una notizia così meno brutta, così curiosa. Santinelli si spoglia in tv ma delude e il pubblico lo caccia fuori. Ebbene, stava apparendo nella trasmissione di Maria De Filippi e di Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Insomma, quella trasmissione, tu sì che vale, se che appare periodicamente sugli schermi. Terremoto evacuati da via della robbia a Pesaro, è pericolante la vecchia ciminiera della fornace Molaroni. Chiusa l'abitazione dell'ex deputata Alessia Morani, fuori 30 persone. Il numero varia, qui si dice 30 ma poi si corregge anche in 40. Probabilmente nel corso della serata le persone costrette a lasciare il proprio appartamento sono aumentate. Danni subiti con il terremoto stanno aumentando in tutta la città di Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci l'aveva quantificato in 20 milioni di euro ma sembra che questa cipra debba essere aumentata ancora di più. Chi paga materialmente per i disagi, per i lavori che si dovranno fare, ancora questo è un punto interrogativo che rimane senza soluzione. E qua invece abbiamo una notizia curiosa che sempre riguarda il terremoto. Abbiamo avuto tutti un po' di timore, un po' di paura. C'è chi è uscito di casa precipitosamente. Insomma ci sono state reazioni diverse e ci sono anche gli animali che hanno avuto paura. E qui si parla di un gatto, di un gatto molto molto pauroso per quanto riguarda i terremoti. Questo gatto ha appena sentita la prima scossa, appena percepita la prima scossa, perché gli animali l'avvertono prima che la sentano gli esseri umani. Ebbene cosa ha fatto? È fuggito su un albero, su un alto albero. Ed è lì, rimane da diversi giorni. Scende solo per mangiare ma poi risale subito. Insomma lì ha trovato la propria sistemazione e giorno e notte rimane lì. E cosa fa la padrona? L'oveglia. Anche la padroncina dice sono lì da quattro giorni e dalle sette della mattina del nove novembre, dalle otto di mattina alle venti, tutti i giorni sono lì e aspetto che il mio gatto scenda dall'albero. Sono venuti anche i pompieri e anche un rocciatore ma il micio non ne vuole sapere di scendere. Beh, un articolo curioso che stempera un po' questo senso di oppressione, di malinconia che si legge, che si prova leggendo queste notizie di cronaca. E qua vediamo appunto la notizia della morte di Milena Lentini. Milena Lentini è morta, la quattordicenne è coinvolta nel drammatico incidente di Ponte Valle nei giorni scorsi. Ha chiuso gli occhi per sempre la notte scorsa all'ospedale di Ancona. E qua abbiamo un altro lutto. Muore il pompiere Cinzio Scatassa con Chira, il proprio cane che operò al ponte Morandi. Addio a 59 anni, aveva un'età ancora giovanile, dopo un anno di malattia, con il suo cane a soccorso anche i terremotati. Caporeparto dal 2016 al distaccamento cinofilo regionale, per oltre 11 anni apprezzato esponente della CISL ed è segretario regionale della FNS CISL per 26 anni. Scatassa è stato vinto da un male incurabile. Autismo, oggi in consiglio approvazione della variante per realizzare la nuova sede. Oggi in consiglio l'unica delibera all'ordine del giorno, si parla del Consiglio Comunale di Pesaro, che permetterà di dare una sede e ampliare la superficie al futuro centro dei disturbi dello spettro autistico previsto all'Aso, in via Vattielli, via Alfano. E poi un altro lutto. Morta Maria Boiani, cuoca della Tana. È morta Maria Boiani, 88 anni, storica cuoca dell'agriturismo Tana della Volpe e persona molto nota e apprezzata a Villa Fastigi. Vediamo anche qualche notizia di sport. Vediamo che le due squadre principali che frequentano i campionati di calcio hanno ottenuto un pareggio, sia la Vis che l'Alma Juventus fanno. Montevarchi Vispesaro 0-0. Comunque giocare fuori casa è già un piccolo successo, ottenere un pareggio. Solito legno e miracolo di Farroni. Punto visse. I biancorossi tornano con un pari da Montevarchi. I valdifiori nella ripresa dà ordine, ma anche le sue geometrie aprono la strada per il gol. È il minimo sindacale, perché a Montevarchi contava non perdere e la Vis per fortuna non ha perso. Finita qui? No affatto, dice Riccardo Spendolini in questo suo articolo. Il punticino della Brilli Peri muove la classifica. Biancorossi a quota 14, ma Fedato e Solci non segnano da 567 minuti. È una vera e propria eternità. Sassarini esce confortato da questa partita. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno. Anche qui, tra mezzo pieno e mezzo vuoto, c'è chi prepende per l'una o per l'altra situazione. Sbagliato guardare la classifica ora, che secondo il tecnico non rende giustizia alle potenzialità della squadra. E vediamo anche che cosa ha fatto il Fano Calcio. Un'occasione dietro l'altra, Fano Brividi e Illusioni. Questa volta era il Fano che ospitava l'avversaria. Si tratta del vasto Girardi e la partita si è conclusa uno a uno. Partita scoppiettante, dice il giornale, con chance a ripetizione e portieri protagonisti. Gli ospiti più pericolosi nel primo tempo, l'Alma invece nel finale, ma finisce uno a uno. Ebbè, possiamo ritenerci soddisfatti, dicono i tifosi. Comunque l'Alma veleggia sempre nelle parti alte della classifica. E questa è l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle 7. E vi invito a guardare anche il TG del giorno, perché ci saranno senz'altro sviluppi interessanti nella giornata di oggi per quanto riguarda le notizie che sono state date per la giornata di ieri. Questa sera alle 20.30 in Occhio alla Notizia, il TG condotto da Simona Zonghetti. Questo è veramente tutto, vi auguro una buona giornata a risentirci. Grazie. 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 Grazie.